Lasciata Agnese nella sala Conoscere, impegnatissima nell'ascolto dei video sulla storia della moneta, la mamma prosegue nella visita. Angela adora girare per i musei, specialmente quelli della sua amata città, Torino, e si vanta di conoscerli tutti. Il museo del risparmio le mancava. Certo, non ha lo stesso appeal dei musei reali, dell'Egizio, del museo del cinema, ma è sempre pronta alle novità. Ha letto sul giornale che a maggio 2017 il museo compie cinque anni e nonostante il tema la spaventi non poco, ha deciso di farci un salto con tutta la famiglia. Già, il tema del museo, l'educazione finanziaria, ma cosa vuol dire? Ha a che fare con l'economia, con la finanza, con la capacità di gestire il denaro e poi, mentre assorta in questi pensieri, entra nella sala Capire, la seconda sala del museo. Davanti a lei tre pilastri, una versione futuristica dei totem indiani. Investimento, risparmio e protezione. Angela li studia un attimo dubbiosa, girava attorno ad uno di essi a testa in su e poi decide di sedersi con un piccolo sgabello subito sotto il totem investimenti. Davanti a lei un tavolo e delle piccole schede. Ne prende una a caso e legge. Che cos'è un derivato? Gran bella domanda, pensa tra se e se. In tv se ne parla un giorno sì, un giorno no, ma non ha la più pallida idea di come funzioni. Così, con circospezione e una punta di imbarazzo, prende le cuffie, avvicina la scheda al lettore e si immerge nell'ascolto.